Per la Lega Pro, Girone B in campo alle seguenti partite, Milan Futuro, Ascoli, Vispesaro, Ponte d'Era, Campopasso, Torres, Sestri Levante, Spalper, Uggia, Gubbio, Ternana, Pineto, Lucchese, Rimini, Pescara, Pianese, passiamo alla Serie D, Girone F, Calcio Termoli, 1920, L'Aquila, Chieti Football Club, Forse, Empronese, Città di Serna, San Leucio, Castelfidardo, Città di Teramo, ASD, Roma, City Football Club, Civilandovese, Calcio, 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 Atletico, Ascoli, Vico, Senigali, Avezzano, Calcio, Fermana, Ancona, San Benedettese, Re Canatese, Soracalcio, Notarisco, il Campionato di Eccellenza, Modisano, Atletico, San Pietro in Valle, Boiano, Aurora, Alto, Casertano, Sesto Campano, Calcio, Football Club, Matese, Senna Fraterna, Olimpia, Gionese, Castelli, San Crocetta, 1953, Real Gugliani, Sipo, Estiva Erano, Ripalimosani, Calcio, Montenero, US Venafro, Calcio Virtus, Gioese, Vasto Girardi, Sporting, Infine la promozione, sempre la seconda giornata, Liffe, Guardia Alfiera, Chaminade, Spinete, Forlum, Polisportiva M, Juveness, Morcone, Calcio, Baranello, Polisportiva Roccaravindola, Polisportiva Calena, Polisportiva Vottore, Atletico, Torre Maggiore, Rufre, Presenzano, Locomodi, Riccia, Trivento, Difesa Grande, Termoli. Grazie a tutti.